bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi le novità le sorprese e gli easter eggs che sono presenti in questa stagione numero 4 di fortnight sono veramente veramente infiniti abbiamo visto ragazzi poco fa la scoperta dell'impronta di un dinosauro che si trova esattamente qui abbiamo scoperto un paio di giorni fa o meglio ieri le basi segrete che sono presenti nella mappa beh ragazzi è stata scoperta un'altra base segreta o meglio una stanza segreta e questa stanza ragazzi si trova a borgo bislacco c'è una casa ragazzi che ci ha nascosto sotto una scala una base segreta io ho paura ho paura di pensare porca miseria a quanti segreti possano esserci in questa stagione ma andiamo a vederla assieme ragazzi la casa la stiamo vedendo è lì davanti a noi dovrebbe essere quella lì bianca con il tetto bianco vediamo se c'è qualcun altro che ci atterra o se sono l'unico ciulone no c'è un altro che va a vedere la bar ma non a terra tra base segreta porca di quella porca ma uno deve fare le cose con le basi segrete e gli fregano già tutte le idee se per caso era questa e magari io mi sto sbagliando come potrebbe tranquillamente essere benissimo stanno già sparando ok ma noi andiamo alla base segreta aspetta un attimo aspetta aspetta bisogna andare alla base segreta non è qua non è qua datemi un'arma segreta per la base segreta con questo eccesso segreto aspetta un attimo aspetta un attimo c'era una base segreta non è questa la casa mi serve un'arma continuo a trovare munizioni un attimo solo un attimo perché ogni volta devono fare le cose in un modo e poi ne vengono fuori in un altro aspetta un attimo devi te la faccio vedere te la faccio vedere vede perché sei abituato a vedere quel che dirò di questo e questa è questa è questa è questa da qua guarda qua guarda 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 ma su un guru guarda che roba è un vero e proprio centro operativo si può lasciare che trova basi segrete completamente a caso va 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 la doccia segreta poi ci sono c'è tutto il centro di comando qua per controllare le cose vocherò la palestra segreta ragazzi è una figata incredibile sono sicuro che molti di voi non la conoscevano e questa ragazzi è una base stanza segreta sotto a una casa il borgo bislacco vorrei andare a fare la kill prima di scapparmi via come un sgringrone aspetta che provo a killare venite qua nella base segreta stronzacioni venite aspettarvi sono qui aspettarvi non vengono non vengo c'è paura c'è un po aspetta aspetta andiamo a killare male la gente dalla base segreta ragazzi cosa ne pensate e non è una figata secondo me si devo andare a sparare alla gente non posso non posso entrare non sparare alla gente proviamo da qua proviamo da qua un attimo è perché secondo me ragazzi molti hanno detto che la stagione numero 4 aveva come tema i supereroi in realtà ragazzi non è proprio così secondo me la stagione numero 4 come tema il cinema ragazzi aspetta che c'è l'infame segreto qua e qua e qua e qua fuori la testolina sono molto sneaky sono molto sneaky e ti sto aspettando non esce non esce non posso andare a chiaro così tema ragazzi della stagione numero 4 non sono proprio i supereroi dovrebbe essere il cinema in realtà quella meteora lì che è caduta è vero che è una meteora vera e tutto quello che vuoi però facciamo due domande ragazzi torno torno nella base segreta sneaky sneaky perché ragazzi secondo voi ci sono tutte queste nuove location e ci sono tutti questi nuovi set cinematografici siamo davvero sicuri che siano i supereroi il tema di questa stagione e poi perché c'è quella enorme impronta di dinosauro ragazzi è veramente uno spoiler del pass della stagione c'è l'infame segreto della stagione 5 oppure fa parte del set cinematografico se ci pensiamo ragazzi ci sono delle telecamere di là vieni che spacca come un pazzo mi chillo questo e vi saluto ragazzi pensateci bene siamo sicuri che siano i supereroi non vai su che lutto con il pazzo siamo i due deficienti che ci stiamo cercando aspetta e aspetta aspetta ero in due così quindi cosa fai vieni non vieni maiale ti stai scendendo è brutto merda ti è andata bene ti è andata bene va bene ragazzi cosa ne pensate della base segreta scrivetelo sotto qua se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao